In questo video andremo a vedere come rimuovere Internet Explorer completamente da Windows 10 La domanda che si fanno spesso molti utenti è è sicuro rimuovere Internet Explorer da Windows visto che il browser per tanti anni e in tutte le versioni precedenti di Windows è sempre stato molto integrato con il sistema operativo In realtà nelle ultime versioni di Windows non lo è più quindi Windows non è più dipendente da Internet Explorer quindi può funzionare tranquillamente anche senza Internet Explorer installato In più è una notizia che ho letto proprio oggi l'ho letta oggi sicuro ma non so se è uscita oggi o se è di qualche giorno fa che sono state scoperte nuove falle in Internet Explorer quindi ci sono dei problemi di sicurezza ovviamente queste falle vengono sfruttate solamente nel caso in cui si utilizzi Internet Explorer quindi non se ce l'ho semplicemente installato ma non lo uso però questo mi ha fatto pensare effettivamente noi abbiamo dei software installati sul sistema operativo che nella maggior parte dei casi magari non andremo ad usare mai quindi per quale motivo tenerli installati se non ci servono se non li andiamo ad utilizzare e da questo quindi ho pensato che potrebbe essere utile un video in cui mostro come disinstallare questi software in questo caso specifico mi sono concentrato su Internet Explorer quindi andremo a vedere come disinstallare Internet Explorer da Windows 10 questa funzione dovrebbe essere possibile anche in sistemi operativi precedenti quindi funziona anche sui sistemi operativi precedenti anche se in questo caso non garantisco che non possano esserci problemi probabilmente a partire da Windows 8.1 quindi anche con la versione di Windows 8.1 non dovrebbero esserci problemi perché anche lì il browser principale è diventato Edge quindi Internet Explorer era già meno integrato per quanto riguarda Windows 7 e Windows 8 in quel caso magari consiglio di non rimuoverlo perché potrebbe creare dei problemi nel funzionamento di Windows quindi nelle versioni precedenti a Windows 8.1 vi consiglio di non eseguire questa operazione invece per quanto riguarda 8.1 e 10 potete tranquillamente eseguirla il primo passaggio è aprire il pannello di controllo per chi non sapesse come fare basterà aprire la ricerca e scrivere pannello di controllo quindi lo troviamo qui facciamo clic e lo apriamo nel mio caso è impostata la visualizzazione per icone grandi solitamente se non fate modifiche dovreste avere la visualizzazione per categoria io vi consiglio di impostare io vi consiglio di impostare icone grandi perché avete più impostazioni visibili clicchiamo su programmi e funzionalità qui abbiamo i vari software che abbiamo installato sul nostro computer non ci interessano questi software ma ci interessa attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows quindi clicchiamo su questa icona e abbiamo diverse funzionalità di Windows vediamo se riesco a ingrandirlo abbiamo qui diverse funzionalità di Windows che possiamo andare a personalizzare quindi a scegliere quali attivare e disattivare in questo caso vi consiglio di non fare modifiche se non sapete precisamente quello che state facendo quindi anche se vi sembra che un determinato elemento non sia utile non lo disattivate nel caso in cui non siete assolutamente sicuri che davvero non verrà mai utilizzato dal vostro sistema se invece stessa cosa ovviamente per quanto riguarda l'attivazione non è sempre buono attivare tutto attivate solamente le cose che pensate possano esservi utili nel nostro caso come detto siamo qui per disinstallare Internet Explorer quindi tra le varie funzionalità andiamo a cercare Internet Explorer 11 disattiviamo la spunta ci dirà la disattivazione di Internet Explorer 11 potrebbe influire su altre funzionalità e programmi di Windows installati nel computer tra cui le impostazioni predefinite continuare ovviamente perché per impostazione predefinita in realtà su Windows 10 l'impostazione predefinita è che il browser da utilizzare è Edge quindi in realtà non c'è non ci sono impostazioni predefinite che si vanno a danneggiare infatti se ci fate caso Edge non è presente tra le funzionalità da disattivare perché Edge non è possibile rimuoverlo mentre Internet Explorer si quindi clicchiamo su sì per continuare ci disattiverà Internet Explorer clicchiamo su ok adesso sta applicando le modifiche che sono abbastanza veloci terminate le quali ci chiederà di riavviare il sistema per poterle completare quindi una volta riavviato il sistema avremo rimosso completamente Internet Explorer dal nostro sistema operativo ovviamente nel caso in cui dovessero esserci dei problemi anche se come vi ho detto non è più integrato nel sistema operativo quindi non dovrebbero esserci problemi però nel caso in cui dovessero esserci può essere riattivato nello stesso identico modo in cui lo abbiamo disattivato quindi ci basterà andare nel pannello di controllo programmi e funzionalità attivazione e disattivazione delle funzionalità di Windows e riattiviamo la spunta in questo caso lo riattiviamo quindi verrà reinstallato ci basterà riavviare e lo troveremo nuovamente però come detto è un software che appesantisce inutilmente il sistema quindi abbiamo un browser installato inutilmente anche perché davvero si può considerare praticamente abbandonato anche da Microsoft davvero non supporta la maggior parte delle modifiche moderne sui CSS sull'HTML5 quindi mancano molte funzionalità avanzate ad Internet Explorer che sono invece state integrate in Edge quindi è un browser che davvero è un po' abbandonato a se stesso quindi non ha neanche senso continuare a tenerlo installato rischiando delle vulnerabilità quindi delle falle di sicurezza al proprio sistema operativo per tenere un software che nella maggior parte dei casi non viene utilizzato quindi in questo modo abbiamo visto come rimuoverlo dal sistema operativo per qualsiasi dubbio domanda o suggerimento scrivetemi nei commenti vi ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo